Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti quest'oggi nella quinta parte della nostra guida a Pokémon Rosso Esurdisco con il cane in sottofondo che abbaglia, non so per quale motivo, con un buon nasale a tutti Buon Natale ragazzi, buon nasale Quest'oggi, 25 dicembre, mi sono svegliato, stamani ho detto, bah perché no, non mi riesco, non mi ricordo come... ah ecco Non fare... non continuare la nostra guida a Pokémon Rosso, facciamo la puntata di oggi appunto il 25 dicembre Dato che è nasale, almeno siamo tutti più buoni Appunto riprendiamo all'interno del Monte Luna, ma non volevo soffermarmici più di tanto, volevo un po' parlare di questo appunto Natale Che cosa vi avrà portato Babbo Nasale? Credo che almeno, almeno i... come si chiamano... i... i regali qualcuno di voi li abbia aperti già ieri sera Che almeno per me era tradizione aprirli il 24 appunto Mentre magari qualcuno di voi li ha aperti il 25 perché ieri sera non c'era Come me che... appunto ieri sera sono tornato a casa e mi sono cambiato, sono fatto la doccia e poi sono uscito appunto Quindi non ho festeggiato il nasale, la vigilia di nasale in casa e credo che aprirò i regali oggi Anche se ovviamente io non riceverò i regali perché insomma sono... è 78 quindi... Con Babbo Natale abbiamo... una cosa... a parte... comunque sia troviamo una pozione qua E... fatemi sapere che regali avete ricevuto Se appunto li avete già aperti E... cosa vi aspettavate, cosa avete chiesto E... io sono stato molto impegnato adesso con il lavoro Quindi non ho potuto pubblicare velocemente o comunque sia often i video Più che altro appunto per via del lavoro Quando dopo uno lavora ha da fare e non può stare tutto il giorno insomma al computer o altro Qui avevo detto che schippavo almeno i Pokémon selvatici Intanto ci sono solo Zubat e Zubat che non vanno in ferie, non scartano regali Troviamo una fune di fuga e proseguiamo qua su Allora... Ho donato anche una caramella rara Di nuovo uno Zubat Zubat Breviamo anche Wow è molto più grande di quanto pensassi La faccia di... del mio mio che sta dicendo Ma a che cosa ti stai riferendo? Ah al regalo, forse stava dicendo al regalo E... E... Niente Io ho ricevuto tra virgolette come regalo Vabbè a parte... I soliti auguri Che quelli... Li sta considerando più come regali Dato che quando si diventa Comunque sia grandi Se ne riceve un po' di meno È normale insomma Mi hanno regalato al momento Un paio di pantaloni E... E poi... Che mi hanno regalato? Niente Non mi hanno regalato nient'altro Ok Tra l'altro anzi Ho ricevuto da un amico GTA 5 Per l'Xbox Quindi mi sono messo a giocarci È veramente una figata pazzesca Mi aspettavo che era bello Avevo visto anche le varie gameplay Ho visto tutta la storia su YouTube Tanto ho detto Quando è uscito Dico la guardo Poi all'ora che ci rigioco Me ne sono già scordato E in effetti Oh Nidoran si sta evolvendo Buono E quindi ho iniziato a giocare Veramente La grafica fa Veramente paura È molto reale È veramente Veramente bello come gioco La Rockstar Game Non si smentisce mai Quindi ho Diciamo Quando torno a casa Dal lavoro Faccio una missione Se mi riesce E poi comunque sia Mi cambio alla svelta Per poi uscire Diciamo che Ecco Non è proprio come Come essere piccoli Specialmente di questi tempi O comunque che Uno prende Esce Va Via Esce Scappa L'MT01 Che cos'era l'MT01 Fammi controllare No L'MT12 Pistola Acqua Buono MT01 Mega Pugno Che ancora però Non insegno Qua c'è una reclota Del Team Rocket Ho visto che lo sprite Di Nidorino Fa veramente È veramente orribile Mamma mia Sono andato L'altro giorno Cioè Ritorno sempre Su E-Sport Con la roba di FIFA Insomma Di Ultimate Team E vedevo che mi facevano Dei regali giornalieri Penso che l'hanno fatto Anche con voi Io speravo Qualche cosa Un giorno mi regalano 200 credit Un giorno Un pacchetto bronzo Sono andato a aprire Tre giocatori Tra cui Glick E un contratto Wow E quindi ho deciso Che Diciamo Ancora no Però Mi sto Diciamo Guardando Intorno Per Magari fare Dei pack Opening Vorrei Magari Acquistare Dei credit Adesso Vedrò Un po' Quando Quando acquistarli Dove Soprattutto Magari adesso Che ci sono Comunque sia Le vacanze Ci sono appunto Le feste Magari fanno anche Qualche offerta Per poi appunto Acquistarle Farci qualche Mega pack Opening Ho sentito Tipo Qualche youtuber Tipo Axel Mi pare Che 10.000 No 100.000 crediti O 10.000 crediti Forse era meglio 100.000 crediti FIFA Coins Cash L'aveva messo A tipo 7 euro Quindi ecco Non sarebbe malvagio Anche magari Me li compro Me li tengo Da una parte E poi ecco Tra un po' Ci farò Una specie Tipo di Pack opening Una cosa Ecco Molto Sdrogo E Qualcuno Mi ha già detto Eh ma La Sdroventus È quella Di Johnny Crick Lo so Di Di Cosa Si Comunque lo so Anche io Che è la cosa Di Johnny Crick La vecchia squadra Comunque sia Penso che anche ora Si chiami Sdroventus Però la chiamavo in quel modo Perché L'account E comunque sia Quella squadra Me la porto dietro Da molti anni Sempre con lo stesso nome Mi piaceva Sdroventus C'ho sempre giocato Quindi non lo cambio Ecco Quindi Mi piace Chiamarla Sdroventus Quindi per chi Magari in futuro Se lo chiederà Si ho preso spunto Da quello E mi piace Non lo cambio Lo so anche da me Comunque sia Spero che Le vacanze Per voi Almeno Penso vi dureranno Fin dopo la Befana Voi che andate a scuola Mentre per quell'altra Parte di persone Che andranno a lavorare Non so Se avete avuto Le fermi Perché magari qualcuno Lavora anche il 24 Il 25 Il 31 Poi Fortunatamente io No Cioè Ho lavorato ieri Che era il 24 Però sono a casa Oggi Che è il 25 Domani Che è Santo Stefano E il 31 Però anche io Lavoro Anche se farò Un orario un po' più Tra virgolette Normale Insomma Vabbè Esco alle 4 Non Non mi lamento Insomma Magari qualcuno Lo farà Dentro qualche locale Magari dovrà lavorare Quindi Insomma Spero che passiate Un buon capodanno Penso che Rifarò qualche altro video Prima di capodanno Vorrei buttare giù Qualche video di GTA Ma non so proprio Come registrare Oramai Le ho provate Veramente di tutte Da Comunque sia Mettere il cellulare Però qualcuno mi dice Eh il video si vede male E Comunque sia C'ha ragione Ma Comunque sia Pesa molto Tra l'altro Avevo intenzione Di comprare Una videocamera L'avevo trovata Su Amazon No Su Ebay Offerte A tipo 34 euro Ora Una Toshiba Insomma Una buona Macchina Una buona videocamera Era una Camilleo Non so se magari qualcuno di voi ce l'ha E Tipo Sono andato a contattare Questo venditore Mi ha detto Sì sì Guarda È sempre disponibile Con 5 euro Te la mando a Cioè con 5 euro Con 42 euro 37 più 5 Di spese di spedizione Te la mando a casa Perfetto Dico Allora Tu mettiamela da parte Poi Ecco domani vado a fare La ricarica Alla poste Pay E poi Insomma ti mando il pagamento Mi ha contattato Mi ha detto Guarda me l'hanno già comprata E quindi Niente È già venduta Vabbè Dico Sarà per la prossima volta Però ecco Potevo acquistare una Camilleo Magari metterla davanti Abbiamo anche un Treppiede Ho tentato di fortuna Di rifarlo Diciamo che per qualche video Sarebbe stata Una cosa buona Però purtroppo Purtroppo è stata venduta Quindi non ce l'ho Squirtle Sala a livello 16 Abbiamo battuto di nuovo Questo avventurale Che terminiamo Abbiamo battuto di nuovo Finalmente Squirtle Si evolve In guardato Guardato che Come pokemon A me Diciamo Non è proprio garbato Tantissimo Vi spiego Era Ovviamente Squirtle Uno dei miei pokemon Preferiti Quindi quando ero piccolino Io usavo soltanto Quello Poi Cosa succedeva Si evolveva Io da piccolino Si mi ricordavo Che c'era Wartotl Però Mi aspettavo sempre Che si evolvesse Alla svelta Perché comunque sia Volevo avere Blastoise Il problema è che Da Squirtle A Wartotl Ci sono pochi livelli Comunque sia Tero danno al 5 Ci sono 11 livelli E poi si evolve Mentre da Wartotl A Blastoise Ce ne erano un bel po' E Era veramente Una scorciatura Però ecco Piccoli ricordi Di infanzia Comunque Questo Montelune È impestato Di Team Rocket E questa è La vecchia generazione Tra l'altro L'hanno fatti Secondo me Anche Un po' troppo cattivi Cioè Hanno reso benissimo L'idea Però ecco Presentarsi con Il Team Rocket Con uno Che ha una frusta Che comunque sia Va bene Ha Pokemon cattivi Lui è il cattivo Della situazione Però ecco Un bambino Immaginatevi voi Vedi questo qui È un cattivo Proprio con la frusta E ci frusta I pokemon Quindi hanno dato Benissimo l'idea Dei super cattivi Questo è un Raticate Secondo me Mi farà Assai il culo Speriamo che almeno Wartotl Non ceda Mandiamo Nidorino Si Wartotl Raticate Che in questo gioco È veramente Una bestia Ha Un sacco Di velocità E Nidorino Cade K O Mandiamo PJ A 15 Magari con un attacco Rapido Non lo so Se resiste Cioè Uff Ha resistito Usa colpo coda Di nuovo Attacco rapido Non è mai un brutto colpo Eh Annaggia E se ne va anche Raticate Si Se ne va anche PJ Adesso Penso che sia più veloce Raticate Ed infatti Perfetto Perfetto Siamo caduti Quindi Ok Grazie Grazie mille Allora A questo punto Ritorniamo là Userò la La velocità Perché non c'ho voglia Di cosare Il brutto Di allenare Tutti i pokemon Allo stesso Punto Di sostituirli È che Almeno su questi Vecchi giochi Ci devi perdere A parte Un sacco Di tempo Ma Ti crepano Veramente Tante volte Ok Ciao Sono tornato Però stavolta Non voglio farlo affrontare Da PJ Vi metto Direttamente Nidorino Se no ci sto Fino a domattina E Avevo intenzione Anche di Far evolvere Nidorino Nidorino Però secondo me Ancora troppo presto Io lo farei Evolvere Verso il 20 Poi ditemi Cosa ne pensate Ok Via Andiamo avanti A parte che PJ si dovrebbe Evolvere Al 16 In PG8 Quindi mettiamolo davanti E poi lo seguiamo Ok Ciao Un geodude Un geodude che fa L'autostop Perché avete visto Che aveva il pollice Alzato Vedete proprio La grafica è minimalista Non è che si sono sprecati molto Però per l'epoca Era un grandissimo È un grandissimo gioco Perché io lo ritengo ancora Ok Qua Un altro pokemon selvatico Qua c'era un altro Recluta Mi pare Da affrontare Ok Ciao Il team rocket Ti troverà Blablabla Mi avete già stancato Un ratat A livello 13 Qui scusate Ma non ho voglia Di affrontare Sempre Sti omini Sempre con Rata Da PJ Zubat Via Ok Allora Questa è una parte Molto importante Della guida Almeno io Me la sentivo Proprio importante Praticamente Questo qua È un signore Che se lo battete È uno scienziato Vi darà uno Dei due fossili Che ha trovato In uno C'è Omanite Che si trasforma In Omanstar E l'altro C'è Kobudo Che si evolve In Kabutops La cosa Terrificante È che io Perennemente Tutte le volte Non mi ricordo mai Quale appunto Fossile contenga Quale Pokémon Quindi Allora Cerchiamo Domo Che Fossile Ok Domo fossile Allora Perfetto Il domo fossile È quello di Omanite No Kabuto Il domo fossile Può essere Revitalizzato In un Kabuto Perfetto Quindi Prenderemo Il domo fossile Perché Io voglio Kabuto Almeno voglio Vorrei avere Kabuto Nella squadra Kabuto Però Ci sarà L'isola Cannella Quando si Affronterà Blaine Quindi C'è Veramente Tra tanto tempo E a quell'ora Credo di aver formato Già tutto il team Quindi Boh Non so se Lo utilizzerò Ci farò un pensierino Ditemi anche voi Se lo volete vedere Anche la vostra opinione Un'altra cosa curiosa È che Coffing Qui è girata All'incontrario Cioè Il simbolo della morte Del veleno Quello lassù Negli altri Sprite Praticamente Di sotto Cioè Sono Praticamente Ora Vi faccio vedere Col mouse Allora Questo Andrebbe di sotto Perfetto Grazie Nidorino Mentre L'occhio e la bocca Stanno di sotto È rovesciato L'hanno corretto Dopo gli sprite Questi sono Gli sprite Sono veramente divertenti Perché Imparimento Un sacco di cose Questo è il domo fossile Sì Ok Esci Riceve il domo fossile Allora Questo è mio Grazie Non ci ho mai giocato Ok Usciamo da questo Monteluna Non abbiamo trovato Un cleferi Che brutta cosa Voglio provare a fare Un tentativo Voglio avere il mio Cleferi Proviamo a cercarlo Bisogna avere Molta fortuna Ve lo dico Perché me lo ricordo Su Pokemon Rosso Almeno quando giocavo Nel Game Boy Ci mettevo veramente Gli anni a trovarlo Qui un Paras Già i Paras È più difficile Da trovare Un altro Zubart Eccolo Perfetto Lo voglio Lo voglio Lo voglio Catturare E Lo voglio utilizzare Nel 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 Nella squadra Voglio Cleferi Cleferi è un Pokemon Che su Pokemon Rosso E Pokemon Blu Era veramente Molto forte Soprattutto Ah ok Oddio Non avevo visto le Pokemon Mi ero bloccato Dico Non ho le Pokemon Cioè veramente Una cosa arriva Benissimo Abbiamo preso Cleferi Ok Mi ci vorrebbe Un'altra Pietra Lunare Quindi Però Vediamo un po' Perché ora Non mi ricordo Un'altra di Pietra Lunare Si potrà anche trovare Ora Guarderò su Pokemon Cioè su Su internet Se riesco a ritrovarla Comunque sia Siamo usciti dal Dalla grotta Di Del Monte Luna Quaggiù non c'era niente Mi pare No Solo nella Pokemon Rosso fuoco E verde foglia Qua C'erano due mini Che insegnavano Mega pugno E mega calcio Si E quindi A questo punto Saliamo qua su Qua non c'è niente Tranne che L'MT04 Contiene Boato Vediamo un po' Se Mi ricordo bene Turbine No Non mi ricordavo bene Ok Comunque sia Scavalchiamo Questa zona Questa è la grotta celeste Uno E due E adesso Boom Cambia lo sprite Cambia lo sprite Non è cambiato Lo sprite Perché forse Questa è la versione Per Il Nintendo Io mi ricordavo Che Celestopoli Diventava tutta celeste Ma forse era Pokemon giallo Che avevano aggiunto Appunto i colori Forse Mi sembra di sì Che tardi Vai a Celestopoli Diventava tutto giallo Vabbè Comunque sia La quinta parte Della nostra guida Pokemon rosso Termina qua Nella prossima Tenteremo di affrontare Misti Guardate qua Esci Abbiamo quanti soldi Abbiamo due Due ore di gioco Penso Buono Allora La squadra PJ Che non si è evoluta Perché si muove a livello 18 Ma ne scordo sempre Una buona velocità Un buon attacco Una buona difesa Ok Grazie mille Abbiamo War total Attacco 29 34 ore di difesa Velocità 25 Speciali 29 Poi Nidorino Buone statistiche Sì Perfetto E anche Le ferie Vabbè Dai Che altra difesa Un po' speciale Vabbè Comunque sia La quinta parte La nostra guida Pokemon rosso Termina qua Come al solito Vi auguro Un felice Nasale Natale Commentate Votate Ed iscrivetevi Ditemi Che regali Avete ricevuto Da questo Babbo nasale E che regali Vi ha portato Se avete fatto Anche un unboxing Magari qualcuno Lo farà anche Unboxing Dei regali Di Natale 2013 Ho il copyright Lo faccio Lo faccerò Prima di voi Votate Comunità Iscrivetevi Un ciao Ciao ragazzi